luoghi di lavoro che promuovono salute è uno a due giorni qui all'ordine dei medici di caserta oggi l'avvio e noi siamo con il dottor ricciardelli che è il direttore del corso perché questa iniziativa è un'iniziativa dovuto al fatto che bisogna andare avanti con le attività del piano regionale della prevenzione e il pp03 luoghi di lavoro che promuovono salute è uno dei 16 piani specifici del prp del piano regionale della prevenzione su questo piano l'asl caserta e azienda capofila per tutta la regione per cui ospiteremo in questa circostanza tutte le altre asl della regione campania e io sono il referente del corso oltre ad essere il referente aziendale del prp per cui ad interim ho preferito conservarmi questo tipo di azione perché è un'azione che necessita di una regia della medicina del lavoro ed è la disciplina da cui provengo insomma ad interim oltre essere il direttore del dipartimento sono resta il direttore del servizio igiene e medicina del lavoro per cui sarà la circostanza in cui faremo un po il punto della situazione vediamo come siamo arrivati se siamo nei tempi giusti rispetto al coronaprogramma che ci siamo dati a livello regionale e facciamo pianificazione su tutte le altre attività che devono essere espletate. A chi è diretto in modo particolare questo corso? A tutte le aziende aderenti ai loro lavoratori è un piano che implica un salto di qualità quindi un virtuosismo finalizzato a migliorare le condizioni di salute e poi indirettamente ne beneficia tutto ne beneficia sia il mondo del lavoro perché i lavoratori che sono motivati e insomma hanno una salute migliore sono anche più performanti ne beneficia quindi anche il loro dotatore del lavoro e soprattutto ne beneficia il sociale perché persone che stanno in buona salute non sono persone che devono essere eseguite curate avranno magari meno cronicità e pertanto è un cario uno sgravio da un punto di vista economico finanziario per la nostra società.